Ben ritrovati a tutti i telespettatori di TeleLiguria Sud per il nostro appuntamento con Mare Sicuro, la trasmissione televisiva in collaborazione con la Guardia Costiera della Spezia, dedicata alla sicurezza di diportisti, bagnanti e di tutti gli amanti del mare. Come di consueto cominciamo parlando delle attività che si svolgeranno in mare nei prossimi giorni. Il giorno 19 e 20 agosto, dalle ore 10 alle ore 16 e 30, si svolgeranno delle regate veliche e relativa posa del BOE nello specchio acqueo delimitato dalle coordinate geografiche antistante il Golfo di Levanto, indicate in grafica. È fatto obbligo a tutte le unità in transito di procedere con massima cautela e di prestare attenzione tenendosi a distanza di sicurezza dalle unità partecipanti alla gara. Infine proseguiranno fino al 16 novembre in orario diurno gli interventi di ripristino e mitigazione del rischio idrogeologico da parte della società Impressing SRL Unipersonale, finalizzati alla riapertura della strada pedonale denominata Via dell'Amore nel comune di Rio Maggiore, nello specchio acqueo delimitato dai punti di coordinata indicati in grafica. Sono dunque interdette la navigazione, la sosta, la pesca e qualsiasi altra attività marittima. È fatto inoltre obbligo a tutte le unità in transito di tenersi ad una distanza di 100 metri dalla linea di costa, procedendo con la massima cautela e prestando particolare attenzione. Ed ora passiamo al bollettino del mare che si può ascoltare sul canale 68 del VHF. Il Mar Ligure si presenterà poco variabile con brezze costiere e quasi calmo in aumento nel settore ovest. Passiamo ora la parola al sottocapo di prima classe Ventriglia Elisabetta, che ci darà alcuni consigli di sicurezza. La bellezza e la particolarità del nostro territorio sono unanimamente riconosciute, tanto che lo Stato ha deciso di mettere in atto delle norme specifiche per tutelarlo, istituendo l'area marina protetta delle Cinque Terre e l'area di tutela marina di Porto Venere. Le aree marine protette sono costituite da ambienti marini dati dalle acque, fondali e dai tratti di costa prospicenti, che presentano un rilevante interesse per le caratteristiche naturali, geomorfologiche, fisiche, biochimiche, con particolare riguardo alla flora e alla fauna marina e costiera e per l'importanza scientifica, ecologica, culturale, educativa ed economica che rivestono. Un'area protetta ha lo scopo di conservare attivamente la biodiversità marina a tutti i livelli di organizzazione della materia vivente, dal corredo genetico agli ecosistemi. Le aree marine protette sono divise in zone in base al livello di tutela. La zona A rappresenta il vero cuore della riserva, dove il livello di tutela è massimo. Nella zona B sono invece consentite diverse attività compatibili con la conservazione dell'ambiente, come le immersioni subacquee, la navigazione, la balneazione e la pesca. Nella zona C le attività consentite sono più numerose, in quanto il grado di tolleranza dell'impatto sull'ambiente è maggiore. Grazie Elisabetta per i tuoi preziosi consigli. Vi ricordiamo che per ogni emergenza in mare potete contattare il numero blu 1530 o il numero unico per le emergenze 112, gratuiti su tutto il territorio nazionale. Dalla Guardia Costiera per questo weekend è tutto, arrivederci alla prossima settimana sempre con Mare Sicuro.